Ciao ragazzi e bentornati su Comic Society. Quello che vedrete ora è la registrazione della live dell'altra sera nella quale faccio la top 10 dei 10 manga del 2021. Volevo solo avvisarvi che purtroppo ho avuto un problema audio durante la live e non me ne ero accorto, nonostante qualcuno mi avessiato qualcosa, però alcuni mi hanno detto che si sentiva bene e quindi la voce è un po' strana. Si capisce, si capisce tutto, dopo un po' ci si abitua anche, ho la voce solo un po' più calda un po' più sexy, quindi piccolo disclaimer iniziale perché purtroppo ho avuto questo problema spero che comunque riuscirete a guardare il video e a vedere i 10 manga migliori del 2021 con anche alcune sorpresine alla fine e niente, quindi vi lascio alla classifica dei 10 manga migliori del 2021. Numero 10, Mushle. Mushle che è un fumetto al quale non avrei dato un euro inizialmente perché mi sembrava, lo voglio dire molto palesemente, una gran cagata e invece in questo suo essere una gran cagata, cioè in questo suo non prendersi affatto sul serio, è uno dei fumetti più divertenti che ho letto nel 2021. Mushle è una via di mezzo fra Harry Potter e One Punch Man, in realtà è una cosa che unisce Harry Potter e One Punch Man. siamo in un mondo in cui la magia è cosa normale, le persone sono praticamente tutte abituate ad utilizzare la magia ci sono scuole di magia ovviamente, per caso che in questo mondo esista Mushle che è un ragazzo che purtroppo non è capace di usare la magia non ha poteri magici, dall'altro lato il suo caro nonnino lo allena come un mostro a livello fisico Mush fa degli allenamenti fisici impressionanti però un giorno la pulizia della magia viene a scoprire di questo segreto di Mush e diciamo che la gente come lui nella società non è tollerata ovvero chi non ha potere magico, chi non è capace di usare la magia, molte volte viene eliminato questo porta Mushle in grosso pericolo, sia lui che suo nonno e per non essere eliminato raggiunge un patto con uno dei capi di questa polizia magica ovvero far riuscire a passare i test di ingresso della scuola di magia Easton che era la scuola di magia di questo mondo ma non solo, oltre a farsi accettare in una scuola di magia lui che non ha potere magico deve anche diventare l'illuminato divino l'illuminato divino è quello che si distingue come il miglior studente di questa scuola quindi uno dei maghi più potenti e promettenti di questo mondo di Mushle chi riesce a raggiungere l'illuminato divino è considerato per l'appunto una persona molto importante e riceve anche quindi benefit, riceve denaro questo è quello che vuole il poliziotto corto della polizia magica ovvero tu dimostri di essere degno di vivere in questo mondo gli dice diventando l'illuminato divino e partecipando alla scuola di magia quindi facendo vedere che puoi vivere in questo mondo di magia dall'altro lato io poi mi prenderò tutti i benefit che tu avrai quando diventerai l'illuminato divino altrimenti se non ci dovessi riuscire eliminerò te e tuo nonno Mushle la prende come una sfida non solo per salvare se stesso e suo nonno ma anche per ribaltare questa società che così non va questa società che ha questo problema con coloro che non gestiscono la magia in tutto ciò è un monk come dicevo non si prende affatto sul serio Mushle entra nella scuola di magia usando i muscoli per contrastare la magia ed è veramente divertente cioè prende a schiaffi per esempio queste tra l'altro c'è le impressioni prende a schiaffi questi poteri magici oppure per esempio c'è una cosa nella scuola di magia che è molto simile al quidditch uno sport che è molto simile al quidditch ma ovviamente Mushle non sa come far volare una scopa ma semplicemente ci riesce facendo cosa? fruttando sempre i suoi muscoli e saltando velocissimo e altissimo a quel punto sembrerà che lui riuscirà a far saltare la scopa a far volare la scopa e quindi le altre persone non capiranno che lui effettivamente non è una persona dotata di potere magico è un fumetto tra tante pubblicazioni umoristiche che escono dal lato giapponese, nel lato dei manga sinceramente Mushle l'ho trovato molto fresco proprio perché non si prende affatto sul serio e soprattutto una cosa secondo me che un po' ha stancato e abbastanza importante per quanto mio gusto personale ricordiamo che queste classifiche sono sempre a mio gusto personale non fa leva sulla solita malizia, sul solito ecci, sulle solite situazioni compromettenti sessualmente così compromettibili e tutte queste cose qua fa leva su altro tipo di umorismo che sinceramente mi ha fatto molto più ridere e mi ha portato proprio a considerarlo come decimo in classifica e ultimo livello ma entra comunque per me nella classifica dei 10 manga migliori del 2021 in nona posizione invece avevo un altro manga che avevo adocchiato fin da subito e che devo dire non mi ha assolutamente deluso ovvero Adou Adou già da subito, già da questa copertina mi aveva dato delle grandissime vibe alla Akira ed effettivamente all'interno ci ho proprio ritrovato queste vibe Adou ci parla di... solo la nonna eh sì, sinceramente sì magari dopo ci arriviamo tra l'altro, cioè se mi segui anche su Instagram hai capito quanto mi era appoggiato Adou ci sono state pubblicazioni molto buone quest'anno infatti come dicevo è stato difficile fare questa classifica e ho dovuto pensare alle cose che più mi hanno stupito quindi Adou è sicuramente un ottimo manga ma si attiene molto più sul classico shonen se vogliamo dire anche se ha qualche particolarità ma adesso ci arriviamo di cosa ci racconta Adou? ci racconta di una ragazza ricca che incontra quasi un incidente stradale questo ragazzino sperduto nella città molto impaurito bambino che si fa chiamare Hate come Otto scopriremo ben presto che Hate fa parte di un esperimento di una serie di esperimenti condotti da un ente privato che porta i bambini e ragazzini di ogni età ad avere poteri molto particolari Hate è fuggito da questa struttura di questa struttura dove si volevano gli esperimenti e da quando è fuggito è braccato dall'esercito privato di questa struttura ma non solo anche da la Dou dal ragazzo anche lui sottoposto a esperimenti più pericoloso e più grande a livello di età tra tutti questi ragazzini da qui partirà una fuga sfrenata tra Rico e Hate e Hate quando messo alle spalle porterà a mostrare il suo vero potere ovvero di poter trasformare parte del suo corpo in questa pianta arrampicante ed essere veramente veramente cattivo e violento ma una specie di trance se vogliamo dirlo una trance in cui diventa veramente pericoloso le vibes alla Akira ci sono perché le piante i tubi i fili di Otomo vengono sostituiti da rami da radici quindi abbiamo questo stile molto se vogliamo grezzo ma allo stesso tempo ben curato uno stile molto aggressivo rispetto a un manga normale devo dire che queste vibes alla Akira dopo il primo volume si perdono un pochino ma rimane comunque un ottimo ottimo shonen soprattutto a livello grafico ma anche per per l'appunto per la sua grande non nascosta presa da Akira nel senso le grandi influenze che ha avuto da Akira molto particolare molto bello secondo me il i design dei personaggi i character design con appunto questi poteri derivanti dalle piante che sono anche qualcosa di un po' nuovo e soprattutto come dicevo a livello anche artistico abbiamo tantissimo Otomo sicuramente no ma io non lo trovo un plagio sinceramente è sicuramente Amanoyaku è sicuramente un mangaka che ha Adio Tomo la sua fonte di ispirazione maggiore senza ombra di dubbio però non l'ho trovato sinceramente un plagio anche perché le trattate che trattate sono un pelo diverso poi comunque ripeto nel secondo volume vediamo che si va si va un po' a perdere questa vibe alla Akira rimanendo comunque nel tratto grafico abbastanza presente però di per sé è un manga che si regge tranquillamente da solo sui suoi piedi e l'ho trovato sinceramente ottimo alla posizione numero 9 però per questa cosa qui perché non è nulla di particolarmente innovativo è un ottimo shonen che nel panorama shonen secondo me si contraddistingue specialmente per il livello grafico però non è nulla di trascendentale e innovativo andiamo con il numero 8 con un manga invece che ha trattato una tematica a noi ben nota e conosciuta in realtà a tutto il mondo ma da un punto di vista un po' diverso ovvero Noin Noin di Tsutomu Takashi che va a trattare il periodo nazista in una storia un po' diversa dal solito mischiata un po' nel quasi fantascienza siamo per l'appunto nel 1940 nel periodo di massimo massima espansione e massima potenza del partito nazista di Hitler e i nostri protagonisti fanno fanno parte di un progetto che era volto a cercare il perfetto erede del Führer questo progetto prevedeva l'inseminazione artificiale in una donna molto particolare del DNA del Führer da questo di questa inseminazione sono stati nati sono stati creati 11 bambini allevati sotto una bolla ne siamo allevati in in isolamento e sotto stretta sorveglianza per diventare per l'appunto l'eventuale perfetto erede del Führer una volta giunto alla sua morte il nostro protagonista è per l'appunto il numero 9 di questo bambino 9 protetto da il suo muro che è Theo Becker e la nostra storia inizia quando arrivati dopo 10 anni di allevamento di questi bambini il consiglio dei maggiori capo del Führer ha finalmente deciso chi è chi sarà il bambino erede di Hitler questo vuol dire però che per tutti gli altri bambini dell'esperimento è giunto il momento di morire e quindi anche per Noin viene dato un ordine di eliminazione di tutti i bambini partecipanti al progetto di Noin e da qui parte un viaggio una fuga sia di Noin che di Theo che Theo aveva dall'inizio la missione di proteggere Noin e continua con la sua missione anche perché in tutti questi anni ha sviluppato una certa repulsione verso i nazisti e quindi vede in questo viaggio di ribellione in questa fuga di ribellione una ribellione verso il partito e per noi invece partirà un viaggio di scoperti di se stesso si scoprirà come è vivere nel mondo reale vedrà tutti gli orrori del nazismo che non sono solo di fondo a tutta faccenda ma sono veri protagonisti della faccenda e ci mostrano ancora una volta in una versione magari un po' diversa ma che cosa di cosa poteva essere in una maniera molto veritiera di che cosa poteva essere capace il nazismo in Germania ma non solo dall'altro dall'altro lato Noin scoprirà anche cosa lo ha portato cosa ha aggiunto in lui il lato di sua madre che non vi spoiler ma la donna selezionata come vi dicevo è molto particolare e questo porterà a sviluppare qualcosa di molto particolare in lui e in altri anche bambini del progetto è come dicevo una storia che tratta il nazismo in maniera quasi inedita quello che stupisce veramente ovviamente a primocchio di questo manga è il fatto grafico di quello che era l'assistente di Nii ho stato blam all'inizio non a caso questo mangaka Tsutomu era l'assistente di Nii durante la produzione di blam dopo poi si è fatto notare anche con altri manga come Jirashin come Sidò Alive che mi è piaciuto moltissimo ed è questo il manga però a livello grafico migliore che abbia mai fatto con un tratto veramente molto aggressivo graffiante questi molto realistico rispetto al panorama manga generale ed è un manga di assoluto rispetto nel tratto grafico ma anche nella sua scrittura che devo essere sincero arrivati al sesto volume perché siamo arrivati al sesto volume manca solo le 6.5 che sono gli ultimi quattro capitoli di quella che sembra essere questa prima parte della storia perché arrivati al sesto volume c'è ancora tanto da dire si perde un po' andiamo molto sulla fantascienza passatemi questo termine quando poi lo leggerete o se lo avete detto secondo me capirete meglio quello che voglio dire apprezzavo forse di più i primi volumi dove il manga era ben radicato storicamente ed era proprio immerso nella seconda guerra mondiale e nella crudetà del nazismo dopo prende un po' una piega un po' diversa ma devo dire che rimane comunque un ottimo ottimo manga che a tutti gli effetti sia quello che fanno i personaggi ma sia il manga di per sé è un atto di ribellione e di ricordarsi sempre le terribili cose che hanno fatto i nazisti nella seconda guerra mondiale quindi ottavo posto assolutamente cosiato noin tra l'altro deve uscire tra pochissimo il cofanetto che conterrà entrambi i sei volumi e che contiene anche all'interno come dicevo il volume 6.5 che sono gli ultimi quattro capitoli molto bene andiamo avanti con la settima posizione che è cannibale di Kazuo Kamimura e Yu Aku in collaborazione in questo caso con Kazuo Kamimura perché Yu Aku se non lo conoscete probabilmente ma neanche io lo conoscevo prima di avermi famato su questo manga è un parogliere un poeta e un conduttore molto molto famoso in Giappone che Kazuo Kamimura ha utilizzato diciamo per le sue conoscenze del jet set del mondo dello spettacolo infatti in Cannibale siamo nel pieno degli anni 70 conosciamo la nostra protagonista che è Namiki Ikito una ragazza normalissima cresciuta in un paesino giapponese che ha un sogno diventare la star numero uno del Giappone per realizzare questo sogno lei è disposta a tutto e quando dico tutto intendo a tutto addirittura se dovesse essere necessario a divorare chiunque le impedisca di raggiungere questo sogno si trasferisce quindi dal paesino a Tokyo dopo avermi tutta la prima vittima in senso figurato e non riesce a entrare nelle grazie di diversi produttori fino ad arrivare a quello che è conosciuto come il produttore più spietato del jet giapponese e che ha colui che ha formato le maggiori star del Giappone e insieme hanno un obiettivo quello di far vincere a Nakami il concorso di Golden 16 ovvero il concorso più importante in Giappone per le 16 anni e il concorso che consacra un idol una star al mondo dello spettacolo da lì in avanti Cannibale ci mostra veramente la spietatezza e la crudeltà del mondo del jet set ci racconta come queste meccaniche d'odio queste meccaniche di vendetta da parte delle persone che abitano questo mondo nel raggiungere il successo a tutti i costi dall'altro lato critica anche la società in continua cerca sempre di nuovi idoli da idolatrare e chi allo stesso tempo dimentica con enorme facilità quelle del passato un ricambio velocissimo che porta anche questo gli artisti o comunque chi fa parte del jet set a mettersi in piedi in testa l'uno con l'altro pur di emanere a galla in questo mondo veramente spietato dall'altro grafico abbiamo le splendide donne di kamimura alla quale ci ha abituato con anche di snowblood o il fiume shimano donne sinuose questo tratto squisitamente anni 70 ed è secondo me un tratto intramontabile anche fiori del male ha scritto kamimura insomma è uno dei mangaka storici più apprestati anche in patria qui da noi stanno arrivando pian piano tutta la sua pubblicazione no non vi faccio lo spoiler ed è una storia un thriller a tratti grottesco perché veramente ci sono delle scene da questa protagonista che è tra l'altro molto ammaliante molto sensuale nonostante sia così giovane ma dall'altro lato è completamente spietata e senza minimo freno inibitore ma anche il minimo freno in generale pur di arrivare al suo obiettivo una figura super carismatica intrigante e infatti delineata benissimo la scrittura di kamimura quindi anche qui un settimo posto ben guadagnato da cannibale di kazu kamimura e yu haku andiamo spediti con la sesta posizione con anche qui un manga che mi ha piacevolmente sorpreso che non mi sarei aspettato trattasse il genere fantasy in maniera così un po' atipica e anche sinceramente innovativa ovvero al numero 6 frieren frieren che è il nome anche della protagonista di questo fumetto che è per l'appunto un classico fumetto fantasy ma che inizia dove tutti gli altri fantasy normalmente finiscono ovvero alla fine del grande viaggio e dopo aver eliminato il cattivo di turno frieren è per l'appunto la maga elfa membra di questo gruppo di eroi che sta tornando dal decennale viaggio che li ha portati a uccidere il re dei demoni arrivati al fine di questo viaggio gli eroi sono pronti a salutarsi e a prendere riprendere la propria strada ma ci accorgiamo da subito che questo viaggio è stato vissuto dai diversi membri del gruppo in maniera completamente diversa in particolar modo da frieren che essendo un elfo ha una vita decisamente molto molto più lunga rispetto a tutti gli altri membri e questo ha portato lei a vivere questo viaggio come una parte irrisoria della sua vita per lei dieci anni sono praticamente niente per lei è già finito per gli altri è stato un viaggio che li ha impegnati per una parte importantissima della loro vita e che rimarrà la parte più importante della loro vita e questo l'ha portato anche a viverlo in due modi completamente diversi tanto è vero che si accorgerà parlando poi negli anni successivi rincontrando questi suoi vecchi compagni che invecchiano inesorabilmente mentre lei rimane sempre uguale si accorgerà che lei non ha conosciuto veramente in quei dieci anni i suoi compagni di viaggio abbiamo anche qui una protagonista molto attipita una protagonista molto fredda molto apatica quasi perché per lei quello che per noi quello che noi viviamo in diversi anni di vita per lei sono pochi attimi quindi non presta attenzione a quello che succede in questo poco periodo quindi dopo questo viaggio Friaren riprenderà un suo viaggio personale quello per andare a scoprire altre per trovare e conoscere e ampliare le sue conoscenze magiche e in questo viaggio come dicevo rincontrerà ancora i suoi vecchi compagni in particolare troverà un suo compagno che le lascerà un'allieva umana in questo caso eccoci qua Friaren un'allieva dalla predisposizione verso la magia e che diventerà farà inizierà sarà il punto di cambio di Friaren sarà qui che Friaren si accorgerà di veramente le farà notare alcune cose del suo viaggio precedente e capirà che ha vissuto quel viaggio in maniera errata se vogliamo dire e questo la porterà a voler cercare ancora i suoi compagni purtroppo però alcuni di loro saranno già morti perché per lei il tempo passa molto velocemente e così passa velocemente anche il tempo nel manga lo subiamo questa cosa ma la subiamo in maniera molto particolare perché la subiamo in realtà vediamo che Friaren è sempre uguale per Friaren sta passando pochi minuti ma vediamo intorno a lei il mondo cambiare continuamente e farle capire continuamente che 80 anni 40 anni 50 anni non sono pochi quindi lei si accorgerà sempre di più di come il mondo intorno a sé è molto diverso vive molto diverso la concessione del tempo da come la vive lei è quindi un'avventura per questo molto atipica ci saranno molti escamotage narrativi basati per l'appunto sul diverso fluire del tempo e sul diverso vivere del tempo Friaren imparerà ad apprezzare anche i piccoli momenti quelli che magari aveva tralasciato nel suo viaggio precedente ci ritroverà a ripercorrere quel viaggio un'altra volta per un motivo diverso questa volta ma che non vi dico perché nel primo volume ancora non si sa e quindi partirà un viaggio nuovo da un certo punto di vista una ripetizione del vecchio viaggio ma che noi non conosciamo perché noi siamo arrivati alla fine di quel vecchio viaggio ma che Friaren vivrà in maniera completamente diversa con un gruppo che si formerà completamente diverso ed è molto bello come Friaren tratta il genere fantasy in maniera tratta il viaggio dell'eroe in maniera come qualcosa di più riflessivo di più calmo la protagonista come dicevo è a tatti anomal fredda ma questo porta a quei piccoli barlumi in cui Friaren si rende conto di essere di esserlo per appunto così a volte fredda a capire che ci porterà a capire che non lo fa apposta che è il suo diverso fluire del tempo che la porta a vivere in quel modo e quindi apprezzeremo tutti i minimi cambiamenti che Friaren sarà in grado di fare cambiare il suo modo di rapportarsi con le persone e anche il suo modo di appunto rapportarsi con il tempo veramente molto molto carino dal punto di vista grafico è un manga che si attiene molto ai canoni standard se non devo dire per una particolare attenzione per i fondali che molte volte nel mondo dei manga sono a volte trascurati diciamo mentre qui trovo un una particolare cura nell'ambientazione e per appunto nei fondali delle scenette quindi una particolare cura grafica un pelo maggiore rispetto allo standard del del mondo nipponico e quindi tutto sommato devo dire che siamo arrivati ora al terzo volume o quantomeno ho dato il terzo non so se è appena uscito il quarto se non sono troppo non ho seguito le ultime uscite ma direi in quasi no e devo dire che fino al terzo volume ne sono rimasto piacevolmente stupito una buona lettura molto tranquilla e rilassante tra l'altro nonostante più avanti arrivino anche dei combattimenti e tra l'altro si veda come friere in realtà sia una maga veramente molto potente ma il tutto è fatto con grande serenità con grande tranquillità è un manga proprio sereno da leggere un manga rilassante e una bella storia da leggere in tranquillità capitolo dopo capitolo senza frenesia senza correre come in realtà ci stanno abituando molto i fumetti anche ultimamente le scritture sono sempre frenetiche le sceneggiature sono sempre più frenetiche mentre questo è proprio soprattutto nel generation dove vediamo susseguirsi di combattimenti power up eventi mentre qua vediamo una storia molto rilassata non per questo noiosa anzi assolutamente ma ricca di spunti anche che fanno molto sorridere e che ragionano per l'appunto su questa cosa che nei fennet è sempre stata delle razze che vivono in maniera diversa in lunghezze diverse ma che questa cosa viene spesso tralasciata se non in grandissime opere come per esempio Sone dei anelli qui invece viene proprio sottolineata questa cosa del tempo in maniera molto 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 bella siamo già a metà classifica andiamo quindi col volume di metà classifica cambiamo completamente generale questo è un volume del quale avevo fatto anche un video su youtube verso l'inizio dell'anno scorso perché è riuscito proprio all'inizio a gennaio dell'anno scorso ed è numero 5 My Broken Mariko di Wakayaku My Broken Mariko manga molto toccante per certi versi anche pesante spiritualmente nel senso a livello emozionale vediamo nelle prime pagine Shino che è una normale impiegata giapponese insoddisfatta e grata del suo lavoro allo stesso tempo durante una normale pausa pranzo mangiare il suo ramen e guardare la tv o il giornale quando scopre proprio questa è la seconda pagina del fumetto seconda facciata in realtà del fumetto quando scopre dal telegiornale che la sua migliore amica si è appena suicidata buttandosi dalla finestra ovviamente lì per lì un uragano di emozioni prevade Shino la sua migliore amica l'aveva vista una settimana prima e non aveva dato nessuna avvisaglia di voler compiere questo gesto addirittura iniziano a svolgere dubbi che c'è stata lei a non aver colto magari alcuni segnali o che è stata addirittura quasi colpa sua il gesto che ha compiuto Marico in questo completo disorientamento portato il provare mille emozioni diverse dalla completa disperazione allo smarrimento alle mille domande Marico prende una decisione molto avventata per niente lucida e l'unica decisione che le viene in mente è l'unica cosa utile che può fare onorare le ceneri della sua amica morta portandole verso un posto a loro caro soprattutto a Marico questo la spinge addirittura fin da subito a compiere gesti completamente folli come andare nella casa del padre dove sono conservate per l'appunto le ceneri di Marico e rubare l'urna delle ceneri dal padre che probabilmente è stato un grande artefice del gesto che ha compiuto Marico in quanto scopriremo aver abusato di lei e averla maltrattata per tantissimi anni e questo Marico lo ha sempre questo Scino lo ha sempre saputo si sono scopriate tantissime lettere e attraverso queste lettere noi mentre mentre Scino percorre il viaggio verso questo posto noi attraverso i ricordi le memorie di di Scino ripercorriamo i momenti che hanno reso la loro amicizia così solida e così unica nel suo genere una sinusoide di eventi di momenti di grande gioia e di momenti di grande disperazione un volume solo un volume unico un volume unico di grande tristezza e disperazione che vivono comunque insieme è un manga che tratta il suicidio da un punto di vista anche qui inedito dal punto di vista di chi rimane non di chi compie il gesto di tutto quello che deve subire chi rimane chi conosce una persona che compie questo atto di estrema disperazione che in realtà ha portato da diversi diverse motivazioni lo tratta con con grande profondità ma anche con leggerezza non non è una sinusoide vabbè ho un passato da fonico quindi sinusoide lo tratta anche con grande leggerenza non appesantendo il racconto però pur dandogli il giusto peso all'argomento la giusta attenzione e il giusto rispetto il tratto di Wakirako che tra l'altro questo è il suo manga giordio è un tratto che si avvicina un po' all'europa anche qui nella cura delle ambientazioni nella cura del realismo ma soprattutto c'è una grandissima cura nei personaggi e nelle espressioni di questi ultimi che a volte sono estremizzate un po' alla giapponese ma dall'altro lato certe volte sono di un'espressività incredibile io difficilmente ho visto volti così espressivi capaci di esprimere le più disparate emozioni in ogni singola pagina non c'è mai un volto anonimo non c'è mai un volto apatico sono sempre curati all'estrema all'estrema e come vedete abbiamo delle parti un po' più leggere qui delle parti in cui vengono utilizzate le classiche espressioni qui abbiamo la scena tra l'altro di 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 che si butta dalla finestra dopo aver appena rubato le cenni della della ragazza e e riesce a essere ripeto leggera ma dall'altro lato tantissimo emozionante un finale da magone e un filmetto molto molto intenso alla fine del volume troverete un'altra storia che non c'entra niente con la storia di maibrokemariko è una storia che però comunque ci fa notare quanto wakiwako sia una mangaka da tenere assolutamente d'occhio dalla grande capacità sia narrativa che che artistica signor naso qualcosa allora siamo giunti a aspetta che ho fatto una cazzata no ok siamo giunti al siamo al pelo del podio quarta posizione abbiamo un un artista che io amo particolarmente perché è completamente fuori di testa e completamente fuori da ogni canone riguardante il manga e in quarta posizione abbiamo Dai Dark di Kuayashida che dopo Doro e Doro io ho amato profondamente e Dai Dark nei suoi primi due volumi non mi ha decisamente deluso per niente in Dai Dark ci spostiamo nello spazio dal mondo di stregoni di Doro e Doro ci spostiamo nello spazio dove abbiamo questo nostro protagonista che è questo che vedete in copertina che è Zazanko che è un essere diciamo un alieno perché è un essere spaziale dalle sebianze umanodi che è fondamentalmente braccato famosissimo in tutto lo spazio ed è costantemente braccato perché c'è questa leggenda che chi riesce ad impossessarsi delle sue ossa può esprimere un desiderio qualsiasi Zaha è qui vediamo il suo robot che lo accompagna in giro per lo spazio da sempre Zaha ha appunto questi accessori molto particolari e proveniendo lui dal mondo oscuro che è un mondo all'interno di un buco nero diciamo oltrepassato il buco nero c'è questo mondo nella più completa oscurità perché sappiamo che da un buco nero non esce nemmeno la luce ha questi gadget per l'appunto che sono la pelle oscura che è qualcosa che lo protegge la carne oscura che lui riesce a modellare e a trasformare in un'ascia poi abbiamo questo suo coprotagonista che è Akia Abakian che è un robot formato di materia oscura che è capace trasformarsi in uno zainetto che lui porta sempre dietro come in Doro e Doro il mondo dei Dark è un continuo dualismo tra tra comicità e horror cioè abbiamo questo questo mondo creato da immagini gore da personaggi terrificanti e da un universo veramente spaventoso ma dall'altro lato abbiamo il Zaha Sanko che è un completo passiamo i termini un completo coglione cioè è fortissimo è un essere che se vuole ha una potenza spaventosa ma è dall'altro lato un ragazzino gioioso e questo contrasto mi uccide cioè questo contrasto per me è eccezionale e in più abbiamo il tratto di Queshid che per me è fenomenale unico nel suo genere ma unico in generale nel panorama fumettistico e per il momento devo dire che la storia ha un suo perché quello che deve fare Zaha Sanko per tutto il tempo è o fuggire o uccidere chi cerca di dargli la caccia per le sue ossa quindi vedremo anche nella sua storia come ha vissuto nella sua giovinezza che ha vissuto in una scuola molto particolare dove nessuno sapeva chi era lui viaggia sempre nel completo animato e stando sempre low profile per cercare di non farsi beccare e dall'altro lato chiunque riesca a a capire chi è lui lui deve eliminarlo perché vuole porre fine a questa continua caccia all'uomo che lo assila fin da quando era piccolo ci sono molti richiami nella precedente opera assolutamente sì ma anche perché parliamo sempre dello stesso artista io sinceramente non ci ho trovato degli richiami diciamo delle ripetizioni se quello che vogliamo dire i mondi sono molto diversi è chiaro che ci sono molti richiami a livello sicuramente estetico a livello di escamotage narrativi quindi però il genere di Koyashida è molto molto particolare ed è molto molto personale ed è per questo che è inevitabile che noi lo ritroveremo lo ricondurremo alle sue diverse opere assolutamente però io devo dire che per quanto mi riguarda continua a essere un mangaka assolutamente unico nel suo genere proprio senza ombra di dubbio quindi se non avete dato nulla io lo consiglio assolutamente ovviamente vi consiglio di recuperare anche d'oro e d'oro ma dai dark è sicuramente un'opera degna di nota e che per l'appunto per me nel panorama manga è assolutamente unico e non scade non scade assolutamente in questa sua altra opera poteva come è successo anche altri mangaka lungo l'arco 2021 arrivati a nuove serie qui assolutamente continuiamo a mantenere una qualità narrativa e artistic per me nel suo genere quasi inarrivabile perché è un genere del quale non faccio anche fatica a descriverlo sinceramente è un genere che non non ha paragoni non ha temi di paragoni con altri rullo i tamburi perché siamo arrivati alla terza posizione qui era lo spoiler perché abbiamo una ripetizione abbiamo un artista che ritorna anche per la terza posizione come dicevo l'ho detto prima è uno degli artisti più importanti o comunque più conosciuti del panorama fumettistico giapponese sono opere che ovviamente non fanno parte del 2021 ma che qui in italia sono state pubblicate per la prima volta nel 2021 e che quindi io ho in sito di diritto nella classifica al numero 3 quindi sul gradino più basso del podio tra i manga del 2000 e la top 10 dei manga 2021 abbiamo 13 notti di rancore ancora di caso kamimura questi due volumi pubblicati da Kokonino Press abbiamo una raccolta di 13 storie su le diverse facce dell'amore e della passione 13 storie di amore e orrore di vendete di odio di passioni sfrenate incontrollabili e di epiloghi altrettanto incontrollabili racconti che sono immersi a differenza della storia a differenza di Carnibale che abbiamo visto prima qui siamo in pieno Giappone feudale in un'atmosfera dal fascino intramontabile nella quale è sempre bello leggerne storie racconti immersi nel folklore giapponese racconti per l'appunto di amore sbagliati di grande romanticismo ma anche di crimini ferati sempre in nome dell'amore e dei sentimenti protagoniste di queste 13 storie ci sono come sempre le donne di Kamimura e in più abbiamo in tutte le storie un collegamento cerco di non tirarvi fuori pagine in cui ci sono scene di amore ma di amore spinto in ogni storia c'è un collegamento con un diverso animale come spesso vuole la mitologia giapponese e sono storie a tratti grottesche perché sono storie che vanno a a raschiare nel nelle parti più buie dell'amore quando diventa un sentimento che offusca la mente quando diventa una passione troppo forte che porta anche a compiere gesti orribili a livello grafico abbiamo già parlato siamo sempre da kamimura quindi con dei persone con questo stile anni appunto 70 80 con queste donne bellissime ma qui in più abbiamo anche delle ambientazioni bellissime perché kamimura ci fa vivere ci fa immergere a appieno nel nel giappone feudale ma con spiegandoci anche raccontandoci alcuni dettagli della vita di quei tempi di come funzionavano le istituzioni o i cetti sociali di anche solo come funzionava la vita di tutti i giorni e ci sono le tavole che maestose è dire poco due volumi molto molto belli anche come edizione due volumi belli cicciotti e le storie raccontate qui dentro sono anche di lunghezza variabile ci sono notti che durano tra l'altro nel primo volume credo che siano due o tre notti quattro sono veramente poche tutte le altre si dipannano prima seconda e terza notte sono solo tre notti nel primo volume e tutte le altre notti si dipannano nel secondo volume che è un po' più grosso del primo ma questo per dirvi che la lunghezza è molto variabile guardate i disegni che trovate all'interno delle illustrazioni che troviamo nelle prime pagine del primo volume abbiamo la capacità grafica espressiva dei disegni di Calcabimura che è infinita è un mangaka da scoprire sempre che per fortuna gli editori italiani stanno recuperando tutte le varie pubblicazioni due posti in classifica erano doverosi per quanto mi riguarda perché sono due pubblicazioni molto diverse tra loro e che sinceramente sono entrambe di uguale qualità anzi ancora è veramente un'opera maestosa maestosa in tutto nelle storie raccontate nelle tematiche trattate nel livello di disegno sono due volumi veramente molto molto belli tra l'altro coni non ne ha pubblicato le pubblicate tutte e due anche in un cofanetto quindi trovate anche un cofanetto anche quello molto bello se volete recuperarlo è un'edizione veramente molto molto bella secondo posto in classifica con un manga che io ho particolarmente nel cuore può forse far storgere il naso questa seconda posizione ma io sinceramente un manga del genere raramente nella mia vita ne ho letto e dei manga ragazzi ne ho letti un bel po' ho iniziato quando avevo 13-14 anni che do a leggere manga ne ho 33 e non ho mai smesso quindi dei manga ne ho letti un bel po' e questo devo dire che mi ha divertito emozionato stupito tutto tutto al primo no secondo posto che primo volume al secondo posto dei migliori manga del 2021 keep your hands of Heizuken ragazzi io mi ero già innamorato di questa storia l'anime che era spettacolare un anime veramente veramente molto bello merito anche probabilmente del suo regista adesso mi sta vedendo il nome buonasera adesso vedrà anche il nome Inyozan no si Inyozan adesso mi viene il nome sapete che nome io vabbè innamorato quando star comics ha annunciato la pubblicazione del manga non vedevo l'ora di vedere quell'opera che aveva portato a quel manga a quell'anime così così bello Kipro Enzo Vezuken è altrettanto se non forse più meritevole dell'anime Kipro Enzo Vezuken è un manga sugli anime ovvero abbiamo la nostra protagonista che è Midoriya Asakusa che è una ragazzina che da sempre disegna guarda manga e continuamente prende spunti per ambientazioni sketch e quant'altro che potrebbe essere utile in futuro per fare il suo manga Midori ha un'amica che è Sayaka Sayaka non ha un grosso interesse negli anime ma ha un grosso interesse per il denaro ed ha una grande capacità manageriale le due incontreranno Tsubame che è una ragazza molto popolare nella scuola dove loro sono e in generale nel mondo giovanile nel loro ambito giovanile perché è una ragazza che fa la modella di famiglia molto benestante ma che nasconde per appunto un segreto ovvero una grande passione per il disegno e per appunto anche per l'animazione le tre si metteranno insieme con l'obiettivo di creare insieme un anime non solo uno ma di creare un club scolastico dedicato agli anime e alla produzione di anime e niente la trama in realtà è tutta qua è una storia che parzialmente da un lato scolastica quindi con le tre ragazze che incontreranno tutte le difficoltà nel caso nel creare un nuovo club e tutte le difficoltà di avere il materiale per creare gli anime e poter farvi dimostrare gli anime insomma tutta la produzione e da quel lato ci mostra anche tutto il lavoro artistico ma anche tecnico che c'è dietro nella creazione di un anime ed è da questo punto di vista molto istruttivo molto interessante dall'altro lato è un'esplosione di creatività e di e di artisticità infinita perché perché saranno questi brainstorming in cui le ragazze si metteranno lì a pensare come evolvere i loro anime come cosa creare le storie i personaggi tutto quello che riguarda l'anime e man mano che loro inizieranno a buttare giù le idee e i pensieri più piano si immergeranno nel vediamo che iniziano a fare degli sketch nelle quali loro stesse sono protagonista di quello che stanno creando per poi pian piano scivolare sempre di più all'interno del mondo che loro stanno creando e diventare parte della loro creazione stessa qui cambia anche totalmente il tratto di Sumitouara che nelle scene più normali di vita quotidiana e scolastica è un tratto se vogliamo anche molto molto semplice quasi semplificato con questi con questi sì volti quasi stilizzati che però diventa pittorico quando per l'appunto sfociamo nel mondo della fantasia e nel mondo degli anime quando vediamo le tre ragazze entrare nel mondo che loro stanno creando diventa uno stile completamente diverso e ragazzi è qualcosa di una creatività incredibile divertente visivamente coinvolgente ma anche emotivamente coinvolgente perché io mi sono molto medesimato da appassionato di anime nella passione che queste ragazze trasmettono nel creare un anime da zero e nelle difficoltà che incontrano e niente è un manga che non vedo l'unico manga degli ultimi anni dei quali non vedo l'ora che io esca al nuovo volume per andarlo a pende e leggerlo con il manga era un po' che non mi succedeva mi guardo intorno perché cerco di capire se mi è successo anche altre volte ma forse l'ultimo con Heavenly Delusion che anche quello era forse il miglior manga del 2020 proseguito anche il 2021 ma Keeper Enzo Visuken per me è un manga sensazionale del quale vedo parlare veramente veramente poco e non ne capisco motivo perché è un manga incredibile completamente diverso da tutto il resto e tra l'altro anche proprio interessante per come ci mostrano come si sviluppano gli anime a livello anche tecnico e di mentalità che ci sta dietro delle idee che stanno dietro dei percorsi creativi e produttivi che ci stanno dietro un manga incredibile Keeper Enzo Visuken alla seconda posizione della classifica andiamo con la numero uno un altro manga che mi ha colpito in maniera incredibile questa volta ovviamente molto meno spensierato e gioioso di Keeper Enzo Visuken però è una storia che colpisce il cuore diretto proprio non lascia veramente fiato una volta arrivati alla fine al numero uno Randaggi di Keiko Shinzo che trovate in un cofanetto che J-pop ha pubblicato con tutti e quattro i volumi della serie e Randaggi ragazzi è un manga veramente coinvolgente emozionante drammatico a tratti che si mostra una storia di vita uno slice of life come pochi io ne ho letti sinceramente vediamo all'inizio della storia l'ispettore Hajime Yamada scusate che vive con il costante ricordo di sua figlia morta davanti agli occhi perché è morta annegata davanti ai suoi occhi durante una vacanza estiva lui per questo si sente da sempre colpevole per la morte di questa sua figlia per si sente negligente è stato negligente e di aver in qualche modo provocato la morte della sua bambina durante una rettata in un in un locale per una sospetto giro di prostituzione minorile l'ispettore incontra la nostra seconda protagonista che è Sciori Sciori che così a primo impatto le ricorda tantissimo sua figlia per questo seguirà in particolar modo anche se non è più di sua competenza tutto l'iter che aspetterà Sciori dopo la liberazione di questo locale nel quale era a lavorare verso lo spostamento verso una nuova famiglia o comunque verso una situazione più normale diciamo che una volta dopo la sua indagine era quella del giro di prostituzione minorile quindi non è più un suo affare cosa succede a Sciori dopo ma lui continua a seguire le bisogni della ragazza scopre che viene rimandata dalla sua famiglia che però da sua madre che però non la considera minimamente Sciori vive quindi per strada proprio come una randaggia l'ispettore la avvicinerà sempre di più fino a che i due non andranno a convivere insieme nella casa dell'ispettore l'ispettore deciderà di prendersi cura di questa bambina di non lasciarla più alla merced di un genitore che non la considera minimamente di non lasciarla per strada e sono due persone profondamente agli antipodi ma che dall'altro lato sono una la cura di quell'altra Yamada vive costantemente in un momento di depressione da quando è morta la figlia dall'altro lato Sciori ha vissuto una vita delle più dure una vita dove non ha la minima idea di cosa voglia dire famiglia non ha la minima di cosa voglia dire l'affetto di un genitore affetto che può essere a volte anche opprimente e quindi questo li porta a spesso avere liti avere incomprensioni a non sapere l'uno con l'altro come comportarsi oltre al fatto che inizialmente sono due estranei sconosciuti che vanno a vivere sotto lo suo tetto quindi anche quello porta altre difficoltà è una storia toccante che colpisce punti profondi critica anche a questo punto alcuni aspetti della società dapponese e non e alcuni percorsi giudiziari che coinvolgono i minori che vengono a volte abbandonati dalle istituzioni non considerate pericolosi e quindi vengono abbandonati a loro stessi o messe in famiglia o nelle mani di familiari che non se ne curano minimamente questo è solo una piccola critica di sfondo se vogliamo dire ma il core della storia è questo rapporto bellissimo tra i due che si viene a creare tra i due un rapporto intenso non facile assolutamente ed è una storia veramente veramente una delle più emozionanti che sicuramente ho letto l'anno scorso dal punto di vista manga io l'ho trovato un manga veramente incredibile vi mostro alcune tavole perché anche dal punto di vista grafico abbiamo un certo realismo nonostante attenendoci diciamo ai canoni classici del manga abbiamo un po' più di realismo questo tratto un po' più dettagliato un po' più ricco di tratteggi di china e matita quindi anche a livello grafico abbiamo un manga molto tenue un manga delicato ma un manga che si fa prestare assolutamente anche nel suo aspetto grafico anche qui c'è una particolare attenzione nelle espressioni di Shino che è una ragazzina davvero problematica e difficile che incappa in parecchie difficoltà per colpa del suo background e del suo del suo passato quindi mi sono sentito di mettere questa storia che una volta chiuso il quarto volume mi sono soffermato come è successo anche con my book che il marito mi sono soffermato un secondo per ripensare più di un secondo alla storia che avevo appena letto perché è una storia veramente molto molto profonda al numero 1 randaggi non è finita qui perché come è successo anche nella live scorsa ho deciso di inserire una menzione speciale una menzione speciale che non mi sono sentito di mettere in classifica perché è un volume talmente particolare che non avevo idea di dove inserirlo cioè sarebbe una cosa da primo in classifica ma dall'altro lato è una cosa talmente particolare che veramente non sapevo come inserirlo in una classifica e quindi l'ho tenuto come menzione speciale ma è un volume da 10 elode la menzione speciale è Paleppoli di Furia in questa edizione bellissima di Coconino Press che sta pubblicando per l'appunto altri altre storie di Furia Usamaru in questa edizione veramente veramente molto bella curato da da Paolo di Coconino e Paleppoli è una raccolta è la raccolta allora diciamo che l'autore da noi è già conosciuto per magari Suicide Club la trasposizione dello squalificato Icari Club qui abbiamo la sua opera prima una raccolta di 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 Oncoma cioè ovvero di piccoli racconti strutturati in quattro vignette quindi una sola facciata e sono quattro sono mille racconti strutturati in questo modo di più disparati ma non solo dal punto di vista narrativo ma anche dal punto di vista estetico cioè è un progetto incredibile si passa da da metafumetto a eccitazioni post-moderne scene pseudo-erotiche esercizi di stile pop surrealistici abbiamo di tutto abbiamo di tutto è un manga assolutamente atipico un manga molto underground abbiamo alcuni personaggi alcune storie che si riprendono tra di loro citazioni pop citazioni all'arte citazioni abbiamo di tutto veramente di tutto non saprei da che parte iniziare a scrivere questo volume perché è qualcosa di assolutamente atipico e assurdo e anche dal punto di vista estetico avete già da questa pagina che vi faccio vedere ogni pagina ha uno stile di disegno completamente diverso anche qui che va a riprendere tantissimi stili di disegno completamente diversi qui abbiamo uno stile per esempio ricorda un po' anche i maestri dell'horror abbiamo uno stile più da manga comico o comunque che appartiene a quelle produzioni comiche giapponesi abbiamo una quantità di materiali in questa raccolta impressionante è qualcosa di completamente fuori di testa perché alcune storie sono completamente fuori di testa abbiamo il metafomettismo all'ennesima potenza e in un volume veramente che mi ha lasciato a bocca aperta completamente smarrito perché ero completamente smarrito alla fine ma è un esercizio di stile senza precedenti che io abbia letto sinceramente un esercizio di stile impressionante tra l'altro bellissima questa edizione di Cocconino veramente molto bella questa edizione quindi l'ho messo come missione speciale perché è veramente un manga talmente unico che non sapevo come piazzarlo nella classifica potevo metterlo ultimo come primo perché è una cosa assolutamente unica nel suo genere e il panorama underground del manga è qualcosa di incredibile a livello di esercizio di puro stile ho un'ultima piccola premio come dicevo ho voluto dare un premio alle edizioni al migliori al migliori nuove edizioni perché il manga è un mondo che vede di continuo nuove edizioni nuove pubblicazioni e nuove riproposte ero molto indeciso fra due volumi alla fine ho deciso di dare un unico premio per appunto entrambi questi volumi alla casa editrice il premio per mi preparo già i due volumi per la best new edition così per dare un tocco di internazionalità va a star comics con queste due edizioni di die di dragon quest di adventure die e della nuova edizione di inuyash la wide edition che secondo me sono le due edizioni migliori uscite nel 2021 due edizioni in grande formato diverse tra loro una in un formato gigantesco con sovracoperta questo è l'edizione di dragon quest adventure die uno shonen che ha fatto da capostipi a tanti shonen del genere dove anche akira toyama ha messo le mani quindi un must read sicuramente per i appassionati dei manga e dall'altro lato ci abbiamo un'edizione completamente diversa un'edizione senza sovracoperta ma con copertina in cartoncino di questa wide edition di nuyasha molto molto curata in questi dettagli luccicanti dorati e in generale un volume di fattura egregia con anche all'interno le pagine a alcune pagine a colori in realtà qui abbiamo solo all'inizio di rumico di questo capolavoro di rumico takashi pagine di uno spessore decisamente più elevato di una grammatura un po' più elevata rispetto alle pagine classiche di un manga e sono due edizioni secondo me incredibili veramente molto molto belle di un rapporto qualità presto ottimo cioè sono 9 euro e 9 euro e 95 quindi due rapporti qualità presto incredibili per un manga che sono un assoluto recupero ma soprattutto sono due edizioni bellissime da avere in libreria quindi la best new edition va per l'appunto a edizioni per comics con queste due edizioni siamo giunti al termine come al solito io vi ringrazio per stati qua con me per questa ultima classifica del 2021 come sempre vi ricordo che mi trovate su un po' tutti i social su twitter su youtube su instagram e anche su tiktok se volete trovate tutti i link in descrizione come sempre grazie mille e ci vediamo alla prossima ciao